Per Ravenna 2016 siamo con Giovanni Casadei Monti dell'azienda speciale Sidi Eurosportello che ci introduce al workshop edifici a energia e rifiuti quasi zero. Il workshop di oggi lo abbiamo organizzato innanzitutto per dare un contributo come Eurosportello di Ravenna alla manifestazione Fare i conti con l'ambiente che è la nona edizione con la quale abbiamo sempre collaborato. Abbiamo focalizzato l'attenzione di questo workshop sul tema del risparmio energetico in senso più ampio possibile del termine ma applicato a un settore in particolare, quello delle edilizie a costruzioni perché le statistiche ci dicono che oltre il 40% dei consumi energetici che vengono emessi nella nostra realtà provengono dal settore delle edilizie a costruzioni. È un seminario quindi di carattere divulgativo con il quale cerchiamo di far capire che cosa stanno facendo i centri di ricerca che lavorano sui materiali per le costruzioni del nostro territorio e le imprese che hanno sviluppato dei prodotti o dei servizi innovativi per la gestione del clima all'interno degli edifici proprio per dare un contributo in termini di valorizzazione della sostenibilità ambientale di un territorio che però possa portare dei benefici poi anche in termini di ricerca industriale per aziende che sviluppano dei prodotti innovativi. Grazie a tutti!